La storia dei Ricci è una storia che inizia nel lontano 1963, quando mia nonna, Nonna Maria, che non è mai avuto il piacere di conoscere, prese in fitto dei locali dall'Istituto Autonomo Case Popolari. Questa passione, ormai divenuta tradizione, è stata tramandata da mia nonna e mio padre, Vino Ricci, e infine a me, Tiziano Ricci. Ricci non è solo pizzeria, è anche hamburgeria, ensaladeria e panzerotteria. Questo per offrire una vasta scelta ai nostri clienti e poterli soddisfare al meglio.